E' partita da un controllo dei carabinieri di Leini, in provincia di Torino, l'operazione All Black coordinata dalla procura di Lecce che in queste ore ha portato all'arresto di 13 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e riciclaggio su tutto il territorio nazionale. Grazie al sequestro veniva individuato un gruppo di faccendieri di Taranto e Lecce che avevano creato società fittizie che con false autorizzazioni offrivano siti inesistenti per lo smaltimento di rifiuti per il tramite di una società di intermediazione piemontese, sempre del settore che però non era iscritta all'albo dei gestori di rifiuti. I militari dell'arma hanno così ricostruito i contatti degli intermediari con alcune aziende del trattamento rifiuti che operavano a Torino e nel Bresciano per far confluire i rifiuti nelle località pugliesi. Operazioni non riuscite a seguito della scissione fra il gruppo pugliese e i broker piemontesi. L'autorità giudiziaria salentina aveva in corso analoghe attività investigative condotte dalla Guardia di Finanza di Taranto che avevano permesso di far emergere un ingente traffico illecito di rifiuti, perpetrato in modo sistemico da un gruppo criminoso che operava nel territorio ionico, dedito alla Commissione di plurime attività organizzate al traffico illecito di rifiuti e di falsi inautorizzazioni amministrative. Le indagini hanno permesso di ricostruire tante operazioni illecite di movimentazioni di ingenti quantità di rifiuti, urbani e industriali, anche di tipo pericoloso, che avevano origine prevalentemente in Campania e dirette per lo sversamento in Puglia, segnatamente nelle province di Lecce e Taranto. L'ordinanza di custodio cautelare in carcere ha colpito i tarantini Roberto Scarcia, Luca Di Corrado e Davide D'Andria, soggetti di primo piano della Sodalizio, oltre a Francesco Sperti di Taranto, Claudio Lo Deserto di Lecce, Oronzo Marseglia di San Vito dei Normanni, Palmiro Mazzotta di Carmiano, Luca Grassi di Lecce, Salvatore Coscarella e Nestore Coseglia. Ai domiciliari sono finiti Biagio Campiglia, Franco Giovinazzo e Antonio Limuli. Grazie a tutti.